Eccoci qui ancora insieme per parlare della Romea Strata, questa antica strada del pellegrinaggio dal nord Europa verso Roma che si ferma però a San Mignato dove si congiunge appunto con il resto del percorso come promesso è con noi Luisa Dalpra che è una giovane che si è occupata molto da vicino di questo percorso perché l'ha percorso tutto a piedi e in bicicletta proprio per verificare se poi i pellegrini avessero incontrato delle difficoltà e se la mappa era poi corrispondente alla realtà. Intanto buongiorno e benvenuta. Buongiorno grazie. Grazie a te di aver lavorato per tutti noi perché come abbiamo detto questo è sicuramente un cammino di fede ma è anche un cammino attraverso tanti luoghi e monumenti e situazioni importanti per la nostra storia e il patrimonio italiano. Come è andata intanto questa esperienza? Quanto ci hai messo? Hai camminato molto? L'esperienza è stata bella, è stata importante ed è stata molto costruttiva dal punto di vista personale. È stata un'esperienza suddivisa e il percorso è stato tracciato in più momenti. Non è stato percorso tutto in una sola volta. Si è partita. Già è stato abbastanza agevolante. Almeno quello. Almeno sono quanti chilometri sono in totale? In totale più o meno. In totale sono 6.302. Poi contando anche le strade che sono state sbagliate e qualcosina di più per me. Abbiamo cominciato con il mappare e verificare la tracciabilità del Friuli Venezia Giulia tramite due ingressi principali, quindi prima dal Tarvisio fino a scendere fino a Concordia Sagittaria, lungo la via di Alemagna e poi abbiamo verificato la via di Aquileiense, quindi da Miren sempre verso Miren Costagnevice in Slovenia fino a Concordia Sagittaria. Si è partito da una base storica, quindi vedendo da dove entravano, quali erano gli ingressi principali medievali e poi vedere sulla base attuale, sulla frattibilità attuale dei luoghi dove effettivamente si poteva passare e quali eventuali variazioni si potevano attuare. Allora è anche una bella testimonianza dal punto di vista sociologico e urbanistico la tua perché diciamo che da quell'epoca ad oggi ne è passato del tempo e ne sono passati di progetti urbanistici nel territorio che è stato letteralmente devastato. Cosa sopravvive di quel progetto originario? Sopravvive per quanto riguarda il Veneto un bellissimo tratto nel comune di Quarto d'Altino dove si riesce a fare proprio un bel tratto della via Agna, sopravvive un bel tratto a Concordia Sagittaria. Poi sopravvivono dei bei tratti lungo la via di Alemagna dove si arriva all'ospitale di San Tommaso a Maiano, sopravvive un bellissimo tratto lungo l'Appennino quindi nella zona da Fanano a salire verso il passo di Croce Arcana e poi si scavalica e si va verso Cotigliano verso Pistoia. Ci sono veramente dei tratti in cui si cammina sull'antico Selciato quindi è molto emozionante pensare che stai camminando al giorno d'oggi su dei tratti che erano stati percorsi dagli feliclini medievali. Assolutamente, invece nelle parti nuove, per le parti nuove come vi siete regolati? Per esempio rimanendo anche soltanto in Veneto, ho visto che avete fatto uno splendido attraversamento tra il Sile e la laguna. Sì, quella zona lì purtroppo essendo una zona molto toccata dal punto di vista urbanistico si sono dovute fare delle deviazioni quindi abbiamo fatto da San Donato di Piave, si è scelto di percorrere tutta la bellissima ciclopedonale del Sile che scende giù fino a Porte Grandi poi è stata fatta tutta la riviera di San Marco in cui costeggia tutta la laguna, si riesce a vedere Venezia che spende da soprattutto verso il tramonto e si arriva a Camposile poi si risale per raggiungere Quarto d'Altino. Si possono anche fare delle deviazioni, raggiunta località Trepalade si può andare a vedere il museo ad Altino che è un museo che è molto importante infatti che è il museo storico della Via Amia. Poi si riesce a risalire sempre da località Altino andando verso il fiume Zero e si fa tutto il percorso della memoria sempre immersi nella natura. Quindi ci sono veramente dei ritagli di natura anche in Veneto, in questo Veneto alle volte un po' sfruttato dal punto di vista urbanistico diciamo che è stato un po' rovinato però per fortuna anche questa esperienza aiuta a te e aiuterà anche noi a capire che cosa vuol dire bellezza del paesaggio, bellezza di un territorio ma chi lo sa se mai un giorno rivedremo quello che abbiamo fatto. Certo Laura è un po' emozionante anche far parte di una nuova storia perché attraverso il tuo cammino si è riscritto una nuova via di pellegrinaggio che chissà quanti altri pellegrini li trasporterai per quanto tempo? Ti ha emozionato un po'? Sì è emozionante soprattutto comunque ripotere percorrere dei tratti antichi e cercare poi delle soluzioni su dove non è possibile ripercorrerle più perché comunque queste strade alle volte sono state cancellate. Ci sono e me ne rendo conto che tutta la strada non è storica al 100% però si è voluto dare comunque una chance a tutte quelle persone che intendono mettersi in cammino, mettersi in discussione e cercare di percorrere una strada ai giorni nostri con le difficoltà che ci sono ai giorni nostri e avere una meta che è Roma. Ascolta ma vorresti dare qualche consiglio ai pellegrini che si metteranno in viaggio lungo qualche tratto di questa via? Di camminare con calma, di camminare con calma e saporare le nostre bellezze che sono tante anche nei posti più piccoli e che alle volte sembrano insignificanti e per non perdere mai la realtà con quello che è la piccola cosa, i piccoli gesti, il godere del sole quando ce l'hai davanti, della fatica quando arrivi alla meta, della sosta, del silenzio e anche della compagnia di quelle persone che ti accompagnano, degli incontri che si fanno. Io ho imparato anche a riuscire a vedere dove potevano essere le chiese magari più significative. Un po' alla volta mi sono fatta l'occhio camminando. Cosa vuol dire più significative per te? Ci sono dei punti specifici, sono i famosi polmoni spirituali che abbiamo poi noi chiamato anche sulla via, che sono quelli che proprio ti danno fiato, ti fanno continuare, sono quelli che ti danno anche la gioia di quello che stai facendo. E probabilmente sono i punti che anche per i pellegrini del passato sono stati così, sono stati tali. C'è una minima percorrenza che bisogna fare o come sono questi tratti per dare un'idea a chi vuole affrontare questo percorso? Più o meno c'è uno standard o ci sono difficoltà diverse a seconda del pezzo di strada che viene scelto? Diciamo che dal Tervisio fino a Modena è quasi sempre in discesa, quindi tranne alcuni piccoli tratti di saliscendi è veramente molto agevole. Poi comincia l'appennino, quindi cominciano anche le fatiche. E sempre l'appennino è un continuo saliscendi, quindi nel momento in cui si crede di aver finito la parte più faticosa, perché si è in discesa, poi si ripresenta un'altra volta la salita. Però è molto bello. Le tratte sono calibrate su tratte giornaliere, quindi 20-25 km che sono le tappe in cui una persona può camminare, può farcela agevolmente. Ci sono delle tappe più lunghe, perché le tappe vanno anche da punto fisso a punto fisso dove una persona può trovare l'ospitalità. Sono state scelte delle tappe in cui i punti fissi fossero rappresentati da chiese, da edifici, da una piazza in cui non si possono più spostare per capirsi. Mi piace perché Laura ha una roadmap della situazione molto particolarizzata fino ai dettagli più strani, la piccola fontana vicino a una chiesa, l'indicazione da dare al pellegrino. Sarai una risorsa importante anche poi nella gestione quotidiana di questa strada. Sì, avendola percorsa tutta, avendo poi inserito tutti i punti sul database, diciamo che ho anche una buona memoria visiva di dove sono localizzate tutte le informazioni. Speriamo di mantenerla questa memoria. Ma sì, altrimenti ci rimettiamo in cammino per rinfrescarla. Grazie a Laura Dalpra e tra pochissimo parleremo con Barbara Liussi invece, che si è occupata anche della parte burocratica e amministrativa del contatto con i sindaci. Grazie e buona giornata. Grazie, grazie. E noi ci vediamo tra pochissimo.